Ed ecco la Milena, forse il suo attrezzo preferito, vinse appunto una medaglia d'argento ai campionati del mondo di Sofia nel 2018, dunque la ammiriamo in questo esercizio che va anche a concludere il programma per la società ginnastica Fabriano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Piccola perdita per Milena, bravissima che si è ripresa subito. Questa è una nuova composizione per Milena. La nuova musica è... Più di...